Viale della Resistenza, Mazzarino, per presentarvi Garziano Macchine Agricole, sede commerciale. Marco Garziano, uno dei titolari del Garziano Macchine Agricole, insieme ai fratelli Carmelo e Valerio, che hanno ereditato questa attività dal padre storico famoso Totò Garziano. Marco, che cosa proponete alla clientela di Mazzarino e del comprensorio, visto che arrivano nella vostra ditta anche tantissimi clienti di fuori Mazzarino? Ciao Paolo, la ditta Garziano opera nel settore della meccanizzazione agricola e industriale a 360 gradi, dal 1968 a Mazzarino, provincia di Caltanissetta, con una succursale a Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Noi siamo esclusivisti dei marchi Deutzfahrer, Sam, Lamborghini, per le province di Caltanissetta e Agrigento. Ovviamente spaziamo praticamente in tutta la Sicilia. Questi sono dei trattori? Sì, questa è una macchina multifunzionale. In che senso? È una macchina che praticamente noi possiamo applicare più di 150 attrezzature anteriormente, adatta sia nell'uso agricolo che nell'uso industriale. Appunto ti dicevo che la ditta Garziano oggi non è solamente macchine agricole, ma anche macchine industriali. Ne abbiamo fatto di strada quando il nonno di Marco vendeva i primi moto zappa a Mazzarino. Zappa, esattamente. Io sono stato uno, mio papà è stato uno degli acquirenti dei primi moto zappa. Mio nonno appunto dico 1968 perché lui ebbe l'idea, poi mio padre da grandissimo imprenditore ha ampliato e adesso noi cerchiamo di mantenere la possibilità che appunto ci ha dato nostro padre. Marco, ci spieghi cos'è? Beh, molto brevemente, come sai la tecnologia agricola va sempre avanti. Tu mi parlavi di sicurezza dell'operatore e qui mi spiego, insomma. Ad oggi anche un hobbista in agricoltura può essere messo in sicurezza anche con dei trattori di, diciamo, un cavallaggio, diciamo, molto, molto, molto basso. Garziano, macchine agricole, Mazzarino. La ditta Garziano, macchine agricole augura a tutti voi buone feste.